barabba barabba e chi non lo conosce barabba personaggio biblico il ladrone che era stato salvato al cui posto appunto era stato condannato gesù allora si è stato fatto un film del 61 per la regia di richard flash un film di quei film hollywoodiani storici un polpettone alcuni dicono no per me è un bel film grande ricostruzioni la storia appunto di barabba qua un po romanzato perché nella bibbia di barabba dopo che è stato scelto è stato salvato non si non viene fatta una descrizione di quello che è stato di lui dopo la sua vita appunto si parla di barabba che diventa poi un nel suo peregrinare nel mondo pensa sempre al fatto che gesù è morto al suo posto quindi porta dentro un inquietudine diventa gladiatore deve combattere alla fine anche si converte quindi un po ma io vi lascio sempre guardare il film no è un po romanzato fine viene anche crucifisso crucifisso quindi fa la fine di gesù di colui che era stato crucifisso al suo posto e protagonista anthony queen io penso che sia perfetto per questa parte anthony queen con il suo viso forte questo attore di origine messicana viso adatto a ruoli forti impegnativi di personaggi violenti trucci anche nella vita non era uno stinco di santo basta chiedere appunto alla famiglia ai figli che non hanno un buonissimo ricordo di lui però un attore grande che lui ha vinto un premio oscar come miglioratore non protagonista per brama di vivere che faceva la parte di gauguin con kirk douglas che faceva van gogh e comunque grande attore questo è un film di ampio respiro girato con altri attori anche italiani c'è gasman il nostro vittorio gasman la simana mangano c'è un grande ernest borgna in altra stella di hollywood che posso dire è un vanto per me che porterò sempre nel cuore di averlo conosciuto in un film vabbè ormai borgna era quasi 90 anni in un film non epico con besio la gura del gorilla però ho conosciuto borgna in grandissimo uomo di origine italiana ernesto borgna di parma e un grandissimo uomo una grande umanità che ha vinto un oscar per martiri da un timido la stella di hollywood no che ha recitato con spencer thresy frank sinatra con i più grandi una stella di hollywood ecco e c'è in questo film e quindi ci sono delle star sia straniere che italiane è un film da vedere un film da assaporare è bella ricostruzione antica è bella appunto quelle scene di combattimento tra gladiatori della roma del tempo è un film di largo respiro non è un film provinciale ecco un film un bel film filmone da guardare questo barabba un omaggio quindi all'hollywood dei tempi quando ho fatto film grandi così mi viene in mente cleopatra con la taylor e per noi per gli appassionati di cinema è da vederlo da assaporarlo da vedere come la capacità anche per quanto riguarda un personaggio di cui non si sapeva tanto appunto della sua vita dopo non viene accennato come c'è stata tutta questa ricostruzione è un film storico un film importante anche come come film culturale anche se rimane romanzato per questo per i cinefili consiglio di guardarlo di gustarlo di analizzare appunto questi combattimenti fra gladiatori penso alle difficoltà di farle la preparazione che è stata fatta a quelle corse delle bighe dei cavalli come Bernur che si vedono in questa arena che rappresenta il Colosseo e di pensare a quanto lavoro è stato fatto dietro a questo film ecco noi lo vediamo in questo modo ma una grande lavorazione un grande dispiego di mezzi di persone però un grande prodotto questo è cinema grande cinema quindi guardatevi Barabba guardate la magia del cinema che cosa è capace di fare e pensate per fare un film di questo genere cosa è costato a farlo cosa è costato a farlo sia in termini di di mezzi che di persone una grande cinema Barabba grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti